Veramente enormi disagi e penso che riusciamo a resistere ancora per poco. Sono in corso i lavori su Via Panico a Giuliano. La ditta di manutenzione del comune sta ripristinando il sistema fognario distrutto a seguito dello scavo di cuniculi nel sottosuolo da parte di ignoti. Intanto però nella zona interdetta al traffico si registrano seri disagi per residenti e commercianti. Questi ultimi lamentano il passaggio di scooter sui marciapiedi che per evitare il blocco stradale si intrufolano nell'area di cantiere mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni e degli stessi commercianti. È diventata una pista per i motorini, le biciclette elettriche quindi anche quando usciamo dai negozi dobbiamo stare molto attenti. Come vedi, vigili non se ne evitano. La paura? Forse se l'hanno impegnato per altre cose. Il centro resta negli orari di punta una giungla di traffico tra piazza Trivio e piazza Matteotti gli ingorghi sono frequenti. Dal lato opposto però vige anarchia con auto parcheggiate a ridosso delle transenne e la desolazione. I commercianti temono che la chiusura si protragga troppo a lungo mettendo in ginocchio attività già sofferenti. Se più a lungo si protraga normalmente ci crea dei problemi. Perché già la situazione di Giuliano commercialmente era comunque difficile da sostenere ma ce la facevamo. Adesso ci sentiamo veramente abbandonati tra l'altro. Speriamo che fanno quanto prima possibile.